Siamo appena spente, l'Italia finalmente celebra un grandissimo successo, dopo 5 anni arriva un nuovo oro nella sezione film con una campagna di scherziati che prevedeva un grande successo fa che è stata consacrata questa sera, ci speriamo a Jackie che per il numero è anche l'energia con Luca e 5 anni, raccogliamo dei commenti a casa Un'altra cosa a cui tenevamo molto era ringraziare chi ci ha fatto conoscere Jackie Stewart perché noi non sapevamo neanche chi fosse ed è stato Gianluca Ritondo che un giorno ci ha fatto vedere una foto sua con Jackie Stewart e da lì poi dopo la storia Le grandi campagne si possono realizzare soltanto con grandi clienti, questa sera è stato detto in maniera molto esplicita, dall'unione di queste due forze che diventano un unico team poi escono questi risultati Certo, noi abbiamo la fortuna di lavorare con uno dei clienti più interessanti e più premiati a livello global l'anno scorso, anzi due anni fa era client of the year a Cannes e da sempre la cosa che ci contraddistingue è riuscire a fare un lavoro di livello, di livello internazionale che credo che faccia bene all'Italia, siamo molto contenti ovviamente il cliente è qui con noi a festeggiare, tutta l'agenzia è qui, Bruno e tutti gli altri e speriamo di rivedervi anche l'anno prossimo che Sadun torni sui propri passi e in qualche modo facci in modo che questo avvenga speriamo veramente perché adesso a parte tutto voglio approfittare per dire che comunque sia il festival non è solo un momento in cui ci facciamo i complimenti a vicenda ma è veramente secondo me la base del sistema che spinge e motiva tutti i ragazzi che lavorano in questa industria a dare sempre il meglio e a spingere sempre di più per cui spero veramente che troveremo una soluzione a questo impasse